La responsabilità educativa della famiglia ha anche risvolti legali. Quali sono? Questi fenomeni in cui sono protagonisti questi ragazzi, questi baby gang, portano alla luce una tematica fondamentale che è la responsabilità genitoriale. Laddove la devianza diventa ovviamente criminalità, questi minori sono chiamati a rispondere penalmente e civilmente per gli atti e le conseguenze dei loro atti. È evidente che un genitore di un minorenne è chiamato a rispondere delle conseguenze degli atti criminosi del proprio figlio. C'è una responsabilità penale e c'è una responsabilità civile. La responsabilità penale è sempre personale, quindi risponde il minore. La responsabilità civile che ha come risvolto il risarcimento del danno è in capo chiaramente ai genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale. Cosa può fare il genitore per liberarsi da un punto di vista di responsabilità? Deve sostanzialmente dimostrare di aver fatto tutto ciò che è nelle sue possibilità per educare il figlio e per averlo controllato. È chiaramente una probazio diabolica perché si deve tenere in considerazione il livello anche culturale del genitore, ma anche le inclinazioni e la personalità del minore. perché ci possono essere dei minori che provengono da famiglie che li hanno ben educati, ma che poi nella loro crescita o per cattive frequentazioni possono essere dei comportamenti che non sono allineati con i valori della famiglia. Quindi i genitori purtroppo, o per fortuna, dipende chiaramente dai punti di vista, hanno una responsabilità, oserei quasi dire, oggettiva. Ed è fondamentale la famiglia perché appunto la famiglia è un ambiente che funge da agente moltiplicatore di condotte positive e anche negative. Quindi il minore che ha dei modelli genitoriali positivi avrà determinati comportamenti. Il minore che è in un contesto genitoriale disfunzionale tenderà a replicare questi comportamenti socialmente in contesti appunto sociali.